Studio del mese di gennaio 2020. Un insegnamento che illumina e dà forza. Diventiamo campioni capaci di alzarsi da soli. Ai meravigliosi nuovi membri, parte terza. La futurologa americana Hazel Henderson una volta mi chiese come mai il movimento della Soka Gakkai si fosse così diffuso su scala globale. Le risposi che la ragione consiste nel fatto che abbiamo sempre valorizzato e rispettato ogni individuo. Henderson, che aveva iniziato la sua attività affrontando varie problematiche ambientali, fino a giungere poi a guidare numerose iniziative popolari su larga scala, annui. Anch'ella era sempre rimasta fedele alla convinzione che un vero movimento popolare dovesse risvegliare la spiritualità di ogni persona. Un movimento che fa emergere la forza interiore. La grande rete Soka, che conta membri in 192 paesi e territori del mondo, è il frutto del nostro impegno costante a incontrare le persone e dialogare con loro per aiutarle ad accrescere la propria consapevolezza e sviluppare saggezza. Grazie alla perseveranza nel condurre dialoghi individuali e di incoraggiamento abbiamo messo in grado una persona dopo l'altra di realizzare un cambiamento interiore. Per questo siamo diventati un movimento di base così vivace e socialmente impegnato. Questa è la forza su cui si fonda la Soka Gakkai, che come organizzazione per la pace mondiale, ha attirato l'attenzione di persone da tutto il mondo. L'umanità anela alla felicità e alla pace. Come fedele discepolo del mio maestro Giusei Toda, il 2 ottobre 1960 fece il primo passo verso Kosenrufu mondiale, il desiderio tanto caro a Nichiren Daishonin. La guerra fredda si stava intensificando, la minaccia degli armamenti nucleari stava aumentando e in tutto il globo si assisteva a conflitti armati e tumulti a livello sociale. Il mio maestro addolorato da tutta questa infelicità affidò a noi, i suoi discepoli, la missione di portare nel mondo la luce del buddismo del sole e del Daishonin e creare quella felicità e quella pace a cui l'umanità tanto anelava. Tutto comincia e finisce con gli esseri umani. Ogni cosa che accade nella società è opera degli esseri umani. Per tale ragione, anche se può sembrare una via indiretta, qualsiasi iniziativa che miri a costruire un futuro migliore deve iniziare da un loro cambiamento. Tutto ha inizio dalle persone e finisce con le persone, compresa la realizzazione della pace nel mondo e della felicità dell'umanità. Lo scopo principale della religione è rivitalizzare gli individui affinché vivano con gioia. Per questo ne occorre una che insegni il valore e la dignità della vita e renda consapevole ogni individuo delle proprie potenzialità. Questa è l'essenza di una religione che esiste per il bene delle persone e non unicamente a suo proprio vantaggio. In questa lezione vorrei concentrarmi sui principi del buddismo di Nichiren che ci mettono in grado di trasformare la nostra vita. Leggiamo un brano dagli scritti di Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin scrisse questa lettera nel marzo del 1272 per il suo discepolo Abutsubo Nitoku, che risiedeva da lungo tempo sull'isola di Sado. La torre preziosa descritta nel Sutra del Loto ha proporzioni straordinarie e Abutsubo non riusciva a comprenderne il significato. Qui il Daishonin offre all'anziano discepolo una visione sorprendente della realtà dell'esistenza. La cerimonia descritta nel Sutra del Loto è una metafora dell'emergere, dall'interiorità dell'essere umano, dello stato vitale più elevato. La torre preziosa si riferisce al Gohonzon e coloro che recitano Nammyoho Rengekyo sono essi stessi la torre preziosa. Egli chiama Abutsubo la guida di questa provincia settentrionale e lo loda per la sua fede profonda. Voi avete un valore supremo. Voi siete la torre preziosa. Voi avete un valore supremo. Questo è il messaggio contenuto in questo passo di la torre preziosa. Il fondatore della Sokka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, studiò a fondo questo scritto di Nichiren Daishonin, sottolineandone molti passaggi. Esso chiarisce il fondamentale spirito di umanesimo connaturato al buddismo di Nichiren, che attribuisce supremo valore agli individui. In questo scritto il Daishonin celebra la dignità e il potenziale illimitato di tutte le persone e spiega quale sia il mezzo per far risplendere al massimo la nobile natura di Buddha intrinseca nella loro vita. Nell'undicesimo capitolo del Sutra del Loto, l'apparizione della torre preziosa, davanti all'assemblea appare improvvisamente una torre gigantesca. Toda descrive così questa cerimonia, chiamata cerimonia nell'aria. Il grande e mistico stato vitale della buddità è latente nella nostra vita. Il potere e la condizione di questo stato vitale vanno oltre ogni immaginazione o possibilità di descrizione. Ciò nonostante noi possiamo realizzarlo concretamente nella nostra vita. Questa cerimonia del capitolo L'apparizione della torre preziosa spiega che noi possiamo davvero far emergere la condizione latente della buddità della nostra vita. Impegniamoci nella fede così come siamo. Il Daishonin ci dice che nell'ultimo giorno della legge coloro che abbracciano la legge mistica e si impegnano sinceramente nella pratica buddista sono grandi e magnifiche torri preziose e sottolinea questo punto dicendo non esiste altra torre preziosa che gli uomini e le donne che abbracciano il Sutra del Loto. Secondo il suo messaggio, pur essendo differenti per aspetto, forma fisica e circostanze di vita, ognuno e ognuna di noi che abbracciamo il Gohonzon, recitiamo Nam-myoho-renge-kyo e operiamo per Kozen-rufu, possiamo, così come siamo e nella nostra forma presente, far risplendere luminosa la torre preziosa della vita adorna dei sette tipi di tesori. Ciò rende il buddismo di Nichiren un insegnamento universale che trascende ogni differenza di nazionalità, etnia e genere. Inoltre il Daishonin insegna che noi tutti siamo, così come siamo, il Buddha molti tesori. Il modo in cui ci impegniamo nell'abbracciare la legge mistica e nel praticare il buddismo corrisponde a quello del Buddha molti tesori. Non ci sono altri requisiti se non abbracciare il Sutra del Loto, non dobbiamo fare niente di speciale. Perciò non serve provare a essere altro da quello che siamo, darci arie o invidiare le altre persone. Se abbiamo problemi dobbiamo semplicemente continuare a impegnarci nella fede. Vivere perseverando nella fede qualunque cosa accada senza mai arrendeci è di per sé la prova della nostra vittoria e la testimonianza del potere del Sutra del Loto. Uno specchio limpido per vedere la torre preziosa dentro di noi. Il Daishonin scrive ad Abutsu Bo. Perciò Abutsu Bo è la torre preziosa stessa e la torre preziosa è Abutsu Bo stesso. Al di fuori di questa consapevolezza tutto il resto è inutile. La cosa importante è sforzarci di manifestare la nostra buddhità interiore come torri preziose della legge mistica. In un altro scritto, il reale aspetto del Go Onzon, il Daishonin afferma, i discepoli di Nichiren credono unicamente nel Sutra del Loto. È per questo che possono entrare nella torre preziosa del Go Onzon. Egli ha scritto il Go Onzon come uno specchio limpido che ci permette di vedere la nostra torre preziosa interiore. Voi siete Nammyoho Renge Kyo. Toda ci insegnava. Decidete fermamente che voi siete Nammyoho Renge Kyo. Lo scopo della pratica buddista è consolidare la torre preziosa di Nammyoho Renge Kyo nelle profondità della nostra vita. La torre preziosa è lo stato vitale di buddhità che si rivela sconfiggendo l'oscurità fondamentale attraverso una forte preghiera. È la forza fondamentale inerente alla vita che ci permette di risollevarci dalla sofferenza e dalla disperazione e vincere. Noi che abbracciamo il Go Onzon possiamo rendere reale questa torre preziosa interiore in qualsiasi momento e luogo e trasformare il nostro ambiente nella terra della luce eternamente tranquilla. E non solo cerchiamo di far emergere la torre preziosa nella nostra vita ma aiutiamo anche gli altri a farlo. Questo è lo scopo del Go Onzon e della fede nel buddismo di Nichiren. Gli strumenti per realizzare tutto questo sono il sentiero Soka di maestro e discepolo, l'unità di diversi corpi stessa mente e l'organizzazione dedita a realizzare cose in rufo. Il modo essenziale e più sicuro per realizzare la pace è aiutare sempre più persone in tutto il mondo a rivelare nella loro vita la propria torre preziosa, la propria dignità intrinseca. L'impegno a non lasciare indietro nessuno. Si può dire che le strutture complicate e monolitiche della società contemporanea indeboliscano al potere individuale. Ciò può produrre un senso di impotenza, distruggere l'autostima e la fiducia in sé, insinuando un sentimento di inadeguatezza personale e la perdita del senso della vita. Ma prendendo coscienza della nostra dignità e trovando un senso di scopo e di fierezza possiamo far sgorgare un coraggio invincibile in grado di affrontare qualsiasi sfida, indipendentemente dalle circostanze esterne. Dentro di noi nasce la tenacia necessaria a superare ogni sorta di difficoltà. La nostra forza interiore aumenta e siamo in grado di alzarci in piedi e fronteggiare qualsiasi ostacolo, diventando come chi cade al suolo che si rialza appoggiandosi al suolo stesso. La conferma del Sutra del Loto. Il modo in cui percepiamo la nostra vita è anche il modo in cui percepiamo la vita altrui. Quando siamo consapevoli della nostra dignità riconosciamo anche quella delle altre persone e il valore della loro vita. Non lasciare indietro nessuno è il principio centrale alla base delle iniziative della comunità globale per realizzare gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'ONU. Tale principio è in profonda sintonia con lo scopo della Soka Gakkai di far risplendere al massimo la dignità di ogni individuo, senza eccezioni, e far emergere la torre preziosa che esiste nella nostra vita e in quella degli altri. Non è eccessivo affermare che il mondo di oggi è alla ricerca di un movimento come il nostro, basato sulla pratica altruistica del Bodhisattva, nel quale gli individui che hanno preso coscienza della propria dignità si sforzano di aiutare gli altri a rivelare la torre preziosa che esiste nelle profondità della loro vita. Leggiamo un brano dagli scritti di Nichiren Daishonin. Se consideriamo che sicuramente diventeremo Buddha, non c'è niente di cui lamentarsi. Anche se tu diventassi la moglie dell'imperatore, a cosa ti servirebbe? Anche se rinascessi nel mondo di cielo, che scopo ci sarebbe? Tu seguirai la strada della figlia del re drago, sarai pari alla Monica ma apra già pati, che felicità, che felicità. Recita Nammyoho Renge Kyo, Nammyoho Renge Kyo, l'arco e la freccia. Sgorgeranno benefici puri. Toda soleva dire ai nuovi membri, tutti abbiamo del karma negativo accumulato in innumerevoli eoni sin dall'infinito passato, perciò la nostra vita è come una canna per innaffiare il giardino intasata dai detriti. Anche se facciamo scorrere l'acqua pura del mondo di Buddha grazie alla fede, ciò che uscirà all'inizio sarà lo sporco accumulato nella nostra vita, perciò dobbiamo lottare con il nostro karma. Però se continuiamo nella pratica buddista, alla fine sgorgeranno immancabilmente benefici puri. Riusciremo assolutamente a trasformare il nostro karma o destino in questa vita, realizzando concretamente il principio del conseguimento della buddità in questa esistenza. Il Go Onzon è la grande medicina benefica che ha l'enorme potere di realizzare tutto questo. È la migliore macchina che ci sia per produrre felicità. La fede nel buddismo di Nichiren ci permette di diventare felici senza alcun dubbio. Incontrare difficoltà nel corso della nostra pratica è la prova che stiamo compiendo progressi nel processo del cambiamento del karma e del conseguimento della buddità in questa esistenza. Questo è assolutamente certo. Affrontare la sofferenza per realizzare la propria missione In L'arco e la freccia, il Daishonin chiede in maniera retorica alla monaca laica Toki quale utilità ci potrebbe essere nel diventare la moglie dell'imperatore, che può avere tutto ciò che vuole o a rinascere nel mondo di cielo. La gioia estatica della vita nel mondo di cielo, uno dei dieci mondi, è effimera e impermanente. Il buddismo di Nichiren non è una religione che ricerca la felicità in qualche altro luogo, ma è un insegnamento che ci aiuta a far emergere uno stato vitale puro e incontaminato, capace di resistere a qualsiasi difficoltà possiamo incontrare nella dura realtà del mondo e di costruire una felicità eterna indistruttibile, proprio come il bel fiore di loto che cresce dal fango. Il Daishonin incoraggia la monaca laica Toki, assicurandole con convinzione assoluta che, poiché abbraccia la fede nella legge mistica, seguirà le orme della figlia del re Drago, che aprì la strada dell'illuminazione a tutte le donne e otterrà senza dubbio la buddità. Le dice anche che quando conseguirà la buddità nel futuro sarà pari a Mahaprajapati, madre adottiva di Shakyamuni e sua prima discepola, che secondo la predizione del Sutra del Loto sarebbe diventata Buddha con il nome gioia per gli occhi di tutti gli esseri e ammirata da tutti. Le spiega inoltre il significato di incontrare difficoltà e di affrontare la malattia, poiché la monaca laica Toki aveva da tempo problemi di salute. Il buddismo espone chiaramente insegnamenti che suscitano speranza e rivelano la quintessenza del potere in grado di superare qualsiasi avversità, come per esempio i principi dell'alleggerimento o della retribuzione karmica, di trasformare il veleno in medicina e di assumere volontariamente il karma appropriato. Quando ci troviamo di fronte a una difficoltà, la nostra tendenza è chiederci perché sta accadendo proprio a noi, rimanendo così intrappolati nella sofferenza che proviamo in quell'istante. Per questo nella lettera il Daishonin cerca di risollevare lo stato vitale della monaca laica Toki. Se ci limitiamo a considerare i nostri problemi o sofferenze come il risultato del karma che abbiamo creato in precedenza, stiamo adottando un approccio rivolto al passato. Dovremmo invece rivedere il nostro atteggiamento e considerare la sofferenza come qualcosa che abbiamo scelto volontariamente per realizzare la nostra missione, qualcosa che abbiamo fatto voto di superare attraverso la fede per dimostrare l'immenso potere della legge mistica e aiutare tante altre persone a raggiungere la felicità. La fede nel buddismo di Nichiren ci permette di far sgorgare questa forza vitale dinamica. Ciò significa vivere con lo spirito di trasformare il karma in missione. Quando ci risvegliamo alla nostra missione diventiamo infinitamente forti. Non solo riusciamo a superare i problemi personali, ma la storia della nostra vittoria apre la strada per aiutare molte altre persone a conseguire la buddità. Quando adottiamo questo modo di pensare, il nostro cuore che è ravvolto dall'oscurità della sofferenza risplende della luce, della speranza e del coraggio. Il nostro stato vitale si espande immensamente. Smettiamo di concentrarci unicamente sulla vittoria personale e ci preoccupiamo in misura maggiore di aiutare anche le altre persone a vincere nella vita. In tal mondo, la nostra esistenza assume un significato nuovo e più ricco. Toda diceva sempre Diventare felici non è poi un'impresa così grande, anzi è piuttosto facile, ma l'essenza del buddismo di Nichiren consiste nell'aiutare anche le altre persone a diventare felici. Impegnarci per il benessere altrui ci permette di trasformare il nostro stato vitale. Lo sforzo di incoraggiare altre persone è il motore della nostra rivoluzione umana, che ispira anche loro a realizzare la propria. Attingiamo a una potente condizione vitale. Il buddismo di Nichiren non ci insegna a credere passivamente in qualcosa al di fuori di noi. La preghiera nel buddismo di Nichiren fa scaturire speranza e convinzione incrollabile. La pratica di recitare Nam-myoho-renge-kyo è la fonte della saggezza e del potere della buddhità. La nostra capacità di attingere a questa grande energia vitale dipende dalla forza della nostra fede. Quando state soffrendo, quando siete tristi, quando vi sentite feriti, recitate semplicemente Nam-myoho-renge-kyo con cuore aperto. Continuate a recitare così come siete, come se steste condividendo i vostri sentimenti con un genitore affettuoso. In questo modo trasformerete i vostri problemi in preghiere. E soprattutto, mentre recitate, sentirete sorgere dentro di voi un coraggio che vi riempirà della convinzione di riuscire a trionfare su ciò che vi affligge. Anche se il problema non si risolve subito, verrà il momento in cui le sofferenze dell'inferno svaniranno immediatamente. Alleggerire la retribuzione karmica Guardandovi indietro scoprirete che la difficoltà che vi aveva procurato tanto dolore era diventata l'opportunità di espandere il vostro stato vitale. Le preghiere algo onzon faranno sorgere nel vostro cuore il sole gioioso della missione e vi permetteranno di far brillare di luce suprema la vostra esistenza presente. Un potere interiore che nessuno può portarci via Niente e nessuno può derubarci di quella forza interiore invincibile che è lo stato vitale di buddità Perciò, mentre ci dedichiamo assiduamente alla pratica buddista dovremmo considerare allo stesso modo sofferenza e gioia felicità in questo mondo e continuare a recitare Dobbiamo recitare con tenacia rifiutando di darci per vinti Questo spirito è già lo stato vitale di buddità che si manifesterà immancabilmente sotto forma di vittoria nel mondo reale Le preghiere, piene di convinzione che attivano vigorosamente le forze protettrici dell'universo ci permettono di far sgorgare illimitatamente questo stato vitale dentro di noi Coloro che si alzano con una simile forza interiore sono veri campioni in grado di infondere coraggio e speranza in ogni persona che incontrano perché la loro vita è carica di vitalità e dinamismo La vera forza di chi vive come bodhisattva della terra Chi ha sofferto di più merita la maggiore felicità Chi ha sperimentato il karma più pesante e doloroso può abbracciare la più nobile delle missioni e realizzarla L'imperatore romano Marco Aurelio affermava che la capacità di vivere una buona vita viene dall'interno Scrisse anche Scava dentro di te Dentro è la fonte del bene e può sgorgare perenne se perenne è il tuo scavo Noi abbracciamo il grande buddismo della rivoluzione umana Possediamo dentro di noi una riserva di determinazione illimitata e potente e la tenacia necessaria a realizzare i nostri scopi qualsiasi ostacolo possa sorgere Quando gli affari di Toda erano in crisi io mi assunsi la piena responsabilità di sostenerlo e assisterlo in ogni cosa In quel periodo, nell'atteggiamento dignitoso e solenne del mio maestro di fronte a quelle difficili circostanze vidi la vera forza di un bodhisattva della terra e la vera profondità dell'umanità Toda diceva Nelle questioni di fede la mia perseveranza rasenta l'ostinazione Le persone che scoprono una missione alla quale dedicare la vita senza rimpianti sono libere da qualsiasi paura o ansia Essere discepolo di Toda è stata la missione della mia vita Niente può distruggere i legami fra un maestro e un discepolo che si dedicano al voto di Cosen Rufu Le nostre vite, unite in una sola, sono eternamente indistruttibili Campioni e campionesse di rivoluzione umana Alzarsi da soli significa avere la convinzione assoluta della nobiltà della propria vita Significa avere la forza interiore di credere nel proprio potenziale e vivere rimanendo persone autentiche Il Daishonin dichiara Questo è il mio voto e io non lo infrangerò mai L'apertura degli occhi L'impegno di adempiere il voto che si è formulato apre la strada a una vittoria senza limiti nella propria vita e in quella di altre persone È iniziata un'epoca in cui il nostro movimento per Cosen Rufu mondiale sta avanzando dinamicamente e i fiori umani dei Bodhisattva della Terra sbocciano fragranti in ogni parte del globo Custodiamo nel cuore il grande voto di maestro e discepolo come persone che contano su loro stesse e sono capaci di alzarsi da sole ed espandiamo ulteriormente la nostra rete di campioni e campionesse di rivoluzione umana Grazie